ciao a tutti bentornati benvenuti sul canale youtube di easyharp io sono paolo de montis l'autore di easyharp la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it questo è il canale youtube di easyharp se non sei già iscritto ti invito a farlo se non sei più un principiante dell'armonica ma già imparato suonarla ne conosci le posizioni le tecniche e stai cercando un modo per avanzare ulteriormente quindi fare quel saltino in avanti e ti stai domandando come fare oggi vi spiego perché dal mio punto di vista è importante iniziare seriamente a trascrivere da soli le note che sentite suonare da un'armonica trascrivere cosa significa significa io ascolto magari su un disco un brano che mi piace dove c'è un'armonica insomma che mi ispira magari un temino piuttosto che un assolo suonato da un armonicista e penso è bello mi piace mi piacerebbe suonare questo pezzo la prima cosa che si fa è andare a vedere se qualcuno ha già fatto questo lavoro di trascrivere quel brano o quella parte e la parte insomma che ci interessa se abbiamo fortuna magari lo troviamo se abbiamo fortuna magari lo troviamo trascritto correttamente ma ci può capitare spesso che questo questa questo di non trovare la fonte e quindi rimaniamo col nostro bella solo di armonica ce l'ascoltiamo e ci piacerebbe suonarlo ma non c'è modo beh non è proprio così se si impara a trascrivere e quindi a tradurre i suoni che ascoltiamo suonati appunto da un'altra armonica trascriverli con un codice di scrittura che può essere tendenzialmente tablature ok a meno che non si usi magari l'armonica cromatica e si voglia scrivere direttamente sul pentagramma eventualmente si può scrivere sul pentagramma anche quello che sentite suonare attraverso una diatonica ma tendenzialmente più comodo utilizzare il codice di scrittura in tablatura se si riesce a fare questo sforzo di tradurre il suono dell'armonica in una parte scritta che non è assolutamente sconta scontato soprattutto all'inizio il processo che ci porta dalla traduzione del suono alla scrittura ci chiede tutta una serie di analisi e di sforzi assolutamente nel ripeto non scontati all'inizio ma che ci fanno realmente imparare tanto allora vado a sé che se io sono all'inizio voglio studiare dei brani sto studiando prendo le parti scritte un buon insegnante mi dà delle belle tablature io ho i miei studenti insomma do le mie trascrizioni degli degli standard degli e li faccio studiare gli ho trascritti io di mio pugno per proprio per insegnare insomma i vari giu che piuttosto che elmi insomma i vari standard che io insegno anche partendo da subito nel vivo e però io gli ho trascritti e quindi se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu chiaramente bisogna partire un po attrezzati perché bisogna avere un po di nozioni per riuscire a raggiungere un minimo risultato il procedimento fondamentalmente è questo io devo individuare la tonalità del brano devo capire la tonalità dell'armonica che viene utilizzata in quel brano su quella tonalità e di conseguenza la posizione utilizzata quindi una volta che ho capito per esempio che l'armonicista sta suonando una solo su un blues in sol e sta utilizzando un'armonica in do in seconda posizione io ho tra le mani la stessa armonica che sta utilizzando l'armonicista che sto ascoltando quindi le note che ascolto sono qui dentro cosa devo fare la prima cosa individuare nota per nota quello che sta suonando e quindi farò proprio una prima opera di trascrizione semplicemente delle note dico semplicemente ma semplice non è anche perché a volte ascoltate dei passaggi rapidi non dico necessariamente virtuosi ma rapidi e questa cosa quindi è un po difficile non ho ancora ascoltato già passato come faccio a trascrivere suggerimento è di utilizzare di insomma un software che ci permette di gestire dei file audio mp3 per esempio quindi io ricavo il file mp3 insomma del brano che sto cercando di studiare lo apro per esempio con audacity un software gratuito vado a individuare la zona quindi posso concentrarmi solo su quella zona e posso per esempio rallentare il brano senza modificarne la tonalità insomma di questi aspetti tecnici ve ne ho parlato in precedenti video quindi io isolo la parte che mi interessa la rallento di quanto serve non troppo sennò poi il file si sgrana la rallento quindi posso ascoltare senza cambiare tonalità ok rimane la stessa tonalità ma è più lento e quindi posso ascoltare con più calma nelle parti che mi interessano chiaramente devo ascoltare più volte la stessa parte ma dico parte in senso un pezzettino di frase allora quindi io individuo le note ci arrivo a orecchio sento provo ho scoperto per esempio che sta aspirando nel 4 e scrivo 4 aspirato poi soffia nel 4 poi piega di mezzo tono il terzo foro aspirato poi va dal 2 aspirato e comincio a segnare nota per nota tutte le note che compongono questa singola frase questo è il primo step insomma di trascrizione vera e propria però purtroppo non basta perché queste note risulterebbero sparse quindi devo successivamente individuare l'aspetto ritmico della frase come sono organizzate queste note quindi andrò a capire sul tempo dove si trovano tendenzialmente la metrica sarà quattro quarti ho una griglia di battute da quattro quarti e quindi proprio sul tempo vado a segnare le note si saranno note su imbattere in levare terzine ottavi insomma note lunghe una battuta andrò proprio a trascrivere quello che io ascolto quando io vi vi metto a disposizione una tablatura delle mie una delle mie easy arp tabs insomma scritte insomma dove io come ben sapete chi studia con me e tutti gli iscritti alla scuola online le mie tablature sono scritte in questa maniera quindi io pretendo poi che tu impari a suonare correttamente il brano a tempo con le durate giuste entri subito in questa dimensione troverà le trascrizioni dei miei standard blues trascritte in questa maniera così che tu chiaro che avere la memoria e la conoscenza del pezzo aiuta però tu hai una scrittura che ti permette facilmente seguendo pedestralmente quello che è scritto di ottenere il risultato atteso quindi imparerai a suonare le tue frasi correttamente allora se tu entri in questa modalità e quindi comincia a fare lo sforzo chiaramente non partire da una solo di gesurricci perché risulterebbe veramente molto complicato ok quindi magari partendo da brani un po più semplici o comunque qualcosa che ti piace qualcosa che ti piace insomma che non troppo difficile ma che ti piace che dici io vorrei imparare a suonare questa cosa qua non trovi le fone beh comincia chiaramente devi già ripeto già conoscere le tecniche devi riconoscere che è una tecnica che è un bending piuttosto che insomma non entriamo poi nei dettagli sfumature espressive se sta utilizzando il ton blocking o meno ma si capisce tutto i miei studenti lo sanno io capisco anche quando si aspira nel 2 si soffia nel 3 vi becco tutti e lo sapete e quindi l'orecchio si raffina si raffina quindi questo sforzo di tradurre in scrittura la musica che sentite vi fa fare tutta una serie di analisi no quindi per forza di cosa entrate nella musica la musica insomma è fatta di pochi elementi ma insomma quando sono chiari e definiti e ben organizzati la musica è veramente piacevole da ascoltare quindi cogliendo le note quali note e la loro organizzazione nel tempo più eventualmente aspetti espressivi chiaramente ma questi sono io normalmente tendo a non scriverli troppo li lascio diciamo all'interpretazione cioè più che altro all'orecchio scrivi le note organizza le frasi cerca di capire quando inizia quando finisce una frase quando ricomincia facendo questo lavoro di trascrizione tu sicuramente impari tanto impari tanto e cominci anche a trovare delle ricorrenze magari sai ti piace un particolare armonicista comincia a studiare qualche frase trascrive qualche frase e scopri che gira e gira magari le soluzioni sono abbastanza ricorrenti quindi riconosci delle ricorrenze stilistiche allora all'inizio io faccio studiare ai miei studenti le parti che scrivo in tablatura e quindi entri anche un po in contatto con questo modo di scrivere quindi impari a suonare correttamente e vai avanti con lo studio a un certo punto arriverai arriverai per esempio nella scuola easy arp 2.0 c'è chi sta arrivando agli ultimi livelli già agli ultimi livelli avanzati e questo quindi avrai avuto un modo di studiare anche parti molto complicate e chi lo sta facendo lo sa però non basta perché poi il problema spesso è legato all'improvvisazione quindi il riuscire a suonare in modo esemporaneo qualcosa che sia interessante soltanto suonare a memoria non basta l'improvvisazione non è suonare a memoria l'improvvisazione è qualcosa di molto complicato volendo da spiegare però comunque l'orecchio ci fa capire se funziona o non funziona ma se ci rendiamo conto di essere limitati dal punto di vista improvvisativo nonostante abbiamo fatto degli studi anche complicati probabilmente ci manca questo aspetto di sfida di cominciare a trascrivere cominciare a trascrivere l'orecchio si sviluppa necessariamente nel momento in cui dovete capire ma che nota sta suonando in che foro è cosa sta facendo che figura ritmica è e riuscite a tradurla state sviluppando il vostro orecchio e più lo fate più diventerete bravi e rapidi a farlo quindi arriverete magari al punto che mettete su un disco di matti waters dove c'è che ne so jerry pornoi che sta facendo un bella solo capite abbastanza al volo insomma quale armonica sta utilizzando se in seconda e abbastanza al volo riuscite a riconoscere la frase che sta suonando e riprodurla abbastanza facilmente e quindi riuscite a rubare più in fretta e questo perché il vostro orecchio si sviluppa è chiaro che non potete non se jerry pornoi sta utilizzando un'armonica in la in prima posizione voi dovrete tradurre le note che sta suonando per essere suonate con un'armonica in la in prima posizione se sta suonando con un'armonica in do in seconda dovrete trascrivere le note per un'armonica in do in seconda ci si arriva un po' alla volta non è una questione per un argomento per principianti ma ad un certo punto in avanti bisogna bisogna fare questo sforzo la papa pronta non esiste più anche perché quando vi trovate a improvvisare la papa pronta non c'è e quindi cosa succede tutto il lavoro fatto vi tornerà utile lo dico anche a chi insomma a volte mi esprime delle difficoltà non riesco tanto improvvisare faccio più o meno sempre le stesse cose bisogna sviluppare le idee sviluppare capire entrare sempre di più ma soprattutto sviluppare l'orecchio l'orecchio un'ottima cosa che va però sostenuto da tutta un'altra serie di argomenti insomma però un po raccontato forse un po un po troppo a lungo ma vi suggerisco di iniziare da un certo punto in avanti insomma quando vorrete fare quel saltino ok quindi avete già imparato suonare le tecniche le posizioni il ton blocking qua e là però volete fare quel sentito cominciate come esercizio a trascrivere le parti di armonica che vi piacciono vi assicuro che il saltino lo farete bene questo era il video di oggi spero che vi sia piaciuto che vi sia utile se così è stato magari lasciate il vostro like se non sei già iscritto al canale youtube di easyarp ti rinnovo l'invito a farlo iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video ti ricordo che puoi seguire easyarp anche su altri social facebook instagram telegram e soprattutto se non hai già fatto ti invito a visitare easyarp 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it dove trovi la mia scuola di armonica blues online con tanti corsi da livello base a livelli avanzati tante parti da studiare insomma armonica blues standards community di studenti possibilità di sostenere gli esami che insomma vi stimolano sicuramente nello studio insomma tutto quello che ti può tornare utile per seguire un percorso didattico completo all'apprendimento dell'armonica blues e ricordate che imparare il suonare l'armonica è facile con easyarp take it easy take it easyarp ciao saluto tutti